quale storia svela il significato segreto dell'opera amore psiche di canova l'attesa di un bacio la cristallizzazione di un attimo sospeso che solo il marmo sa trasformare in eternità grazie alle abili mani di uno scultore italiano di possagno antonio canova padre del neoclassicismo non si tratta di un abbraccio qualunque ma del primo abbraccio divino episodio tratto dalla favola dell'asino d'oro dello scrittore latino apuleio che narra la prova a cui era stata costretta psiche per aver suscitato la gelosia di venere che consisteva nel dover consegnare alla dea un vaso ricevuto da proserpina nell'ade senza aprirlo ma si sa la curiosità è donna e la violazione del difieto fece cadere psiche in un sonno profondo dal quale verrà risvegliata con un bacio di amore questa la storia che ispira una delle più ammirate sculture al mondo perché il canova scelse di rappresentare questo tema trattasi di un soggetto poetico un'opera di genere delicato e gentile come affermerà l'artista stesso il tema era molto diffuso all'epoca e venne selezionato dal canova proprio per mostrare la sua maestria nella rappresentazione di corpi in movimento intrecciati secondo lo schema di x la scultura infatti per meglio essere fruita richiede di ruotarle attorno per poter così scoprire nuove prospettive e nuovi dettagli questo rende la struttura dell'opera estremamente complessa una scultura dove anche il vuoto al suo valore formale per rendere viva la scultura il focus dell'opera risulta essere il delicato abbraccio quasi a voler proteggere e tenere uniti due volti in uno stato di reciproca contemplazione le due creature si sfiorano appena il sensuale corpo di psiche sembra distendersi nella tensione estrema delle braccia che si limitano sfiorare i ricci di amore le lunghe ali del dio protese verso l'alto conferiscono un senso di movimento all'apparente quiete dei corpi adagiati su di una roccia possiamo ammirare come il pregiato marmo di carrara levigatissimo sia stato lavorato con estrema delicatezza e perfezione esecutiva e come invece la base rocciosa sia stata volutamente lasciata grezza per creare il contrasto tra la pelle levigata ed il piedistallo cosa ci insegnano le opere del canova di fronte alle opere canoviane si percepiscono quelli che sono i grandi insegnamenti del massimo teorico del neoclassicismo il winkelmann il quale ci ricorda nel suo saggio il bello nell'arte che la bellezza di un corpo può ridursi a certi principi ma non si può mai definire in quanto superiore al nostro intelletto egli afferma inoltre che ogni creatura ha in sé l'impronta della perfezione anche se il vero compimento della bellezza non esiste se non in dio la bellezza sembra suggerire canova attraverso i suoi poetici soggetti è qualcosa di spirituale che trascende i sensi in cosa consiste la bellezza per gli artisti neoclassici il neoclassicismo promuove una rinascita dei valori classici gli artisti si volgono nuovamente come già era accaduto durante il rinascimento all'arte greca il buon gusto ebbe origine in terra greca affermerà anche il winkelmann il bello è modello di perfezione si ricerca una bellezza idealizzata in arte il bello non si ottiene copiando la natura ma cercando di rendere quelle che sono gli aspetti migliori e la chiave per raggiungere la bellezza è secondo il winkelmann limitazione dell'arte greca un'arte dove regnava l'armonia l'equilibrio la proporzione l'unità i valori sui quali si basa il mondo classico imitare non vuol dire però copiare agli artisti neoclassici viene chiesto di conoscere l'arte classica per riuscire a trasferire quello che era il suo spirito più profondo e questo farà anche il canova altra principale caratteristica dei capolavori greci è una nobile semplicità ed una quieta grandezza affermerà il winkelmann sia nella posizione che nell'espressione e per spiegare questo concetto utilizza la metafora del mare così come la profondità del mare rimane sempre tranquilla per quanto infuri la superficie così l'espressione delle figure degli eroi greci mostra in mezzo a tutte le passioni un'anima grande e posata rappresentata in scultura dal tradizionale sorriso stereotipato della scultura greca che non tradisce mai forti emozioni ma esprime equilibrio e serenità interessante il capitolo del bello nell'arte di winkelmann dedicato alla grazia che viene definita un dono del cielo la grazia agisce nella semplicità nella quiete dell'anima ed è offuscata dalle violente passioni la grazia è la prova più convincente della superiorità che le opere antiche hanno sulle moderne essa è come l'acqua è tanto migliore quanto meno a gusto lo scultore di possagno viene così definito uomo divino grazie alla sua capacità di imprimere l'ideale nelle sue candide sculture trasformandole così in summa delle teorie del winkelmann i suoi capolavori parlano un linguaggio fatto di armonia bellezza ideale unità proporzione semplicità e grazia così l'anima del fruitore si sente tenenarmente commossa dalle sue meditazioni sul tema dell'amore e la grazia del sentimento infine il winkelmann ci esorta a non cercare i difetti e le imperfezioni nelle opere d'arte senza prima aver appreso a conoscerne e distinguerne il bello un invito ad aprire i nostri occhi al bello per riuscire davvero a imparare a guardare oltre grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti